Buongiorno, buona giornata e buona settimana a tutti in questa ultima settimana di novembre in maniera flash breve. Allora, cari amici, purtroppo non sono stato assunto per la supplenza collaboratore scolastico. Il punto da raggiungere adesso sono i tre moduli aggiuntivi della patente europea del computer. Purtroppo, avendone solo quattro, mi è stato scalato detratto il punteggio, quindi sono un po' retrocesso di punti. Però, come si dice, ingrociamo le dita, la speranza è l'ultima a soccompare. Prima o poi lavorerò come collaboratore scolastico. Per ora mi concentro e attendo una chiamata per fare il corso, per fare anche i tre moduli aggiuntivi. Bene, grazie a voi tutti, alla prossima. Ciao!